I bambini orfani, poveri, in Espagna, con le nostre suore, durante la guerra, poi la guerra mondiale, prima la guerra civile in Espagna, poi la guerra mondiale. La sua opera comincia proprio in mezzo alle tragedie umane. Se andiamo a vedere di tragedie non mancano mai nella storia, le guerre sono anche i nostri giorni. Lei aveva una frase che diceva, soleva ripetere, più grande è la nostra miseria, più Dio moltiplica la sua misericordia, il che apre il cuore alla speranza.